Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuto così subito al mio ospite Fabio Guaglione, ciao Fabio Ciao, ciao a tutti Saluto un po' di gente in chat, vedo gli irriducibili, vedo Fantegrasso, Lorenzo Palmas, insomma vedo che state arrivando Commentate pure, fate domande nel caso saremo lieti di rispondere Siamo qui stasera per parlare di immaginazione, poi entreremo nel dettaglio Perché Fabio ha creato, assieme poi a tanti altri che magari nomineremo, un vero e proprio universo, un multiverso anzi Tutto italiano, che insomma è sempre bello quando nel nostro paese tiriamo fuori idee così interessanti Tra l'altro lo dico io in maniera veramente spontanea perché io sono uno di quelli che si era un po' rotto del multiverso Soprattutto quando veniva utilizzato male, cioè quando si pensava solo a dire ok questo e questo Ma sì, facciamoli incontrare, gli facciamo vivere un'avventura giusto per dire alla gente Guarda li si sono incontrati e poi ti restava in mano poco, no? Non c'erano delle regole chiare, valeva un po' tutto Poi sì Mi piace che ne parli al passato, cioè come se fosse una cosa che non succede più Grazie, grazie all'immago verso non succede più, perlomeno in Italia Poi sappiamo che insomma nelle grandi major tutti stiamo pensando alla Marvel, lo sappiamo Questa cosa succederà, succederà sempre un po', però va così Poi gli incassi a volte purtroppo premiano anche un po' la stanchezza a volte più che l'inventiva Ma le cose cambieranno, io ci voglio credere L'intervista a Fabio resterà tra l'altro poi su YouTube Quindi non preoccupatevi, la ritroverete su YouTube se non riuscite a seguirci in diretta Quindi se ci state seguendo in differita, mi raccomando nei commenti scatenatevi Sempre ovviamente con educazione, altrimenti vi spedisco in un altro universo con un click, è facile, state tranquilli If e l'immago verso Allora, per arrivare a If, che intanto già vi faccio vedere Perché If è un romanzo ma è anche un fumetto O è un fumetto ma è anche un romanzo E questa cosa è molto bella, ne parliamo Ma dobbiamo tornare un po' indietro Dobbiamo tornare un po' indietro, quindi voglio fare un breve excursus Delle opere che in qualche modo hanno portato a If Che sono tutte leggibili da sole Ma se lette anche tutte di fila e poi si legge If Si gode il doppio, diciamo Un po' come i Fonzis quando non ti lecchi le dita Tutto è iniziato con Quarantine Profits Di cui adesso magari farò parlare brevissimente Fabio Perché ragazzi, se ci mettiamo a parlare nei dettagli di tutte le opere La live dura 4 ore Quindi saremo molto rapidi, state tranquilli Iniziamo con Quarantine Profits Brevemente Mondo dove a un certo punto La gente inizia a vedere il futuro Alcuni perlomeno iniziano a vedere il futuro Altri hanno abilità molto simili Che hanno a che fare con i ricordi, con la mente E giustamente cosa decide di fare il governo È di rinchiuderli tutti in un posto Per guarirli Perché questa è sempre un po' la scelta primaria Diciamo di chi sta al potere Sfruttarli Sfruttarli, rinchiuderli Magari guarirli Ma aiutarli mai Di solito è sempre questa un po' la regola Parlaci brevemente di Quarantine Profits Se vuoi Immagino tu voglia Sì ne parlo Poi dopo Spieghiamo che cos'è L'imago verso Sennò magari Certo, certo, certo No perché Uno sai Magari leggeva Quarantine Profits E diceva Ok È tutto qui Tra virgolette Ma poi Sì, sì In pratica appunto Come hai detto tu Alcune persone iniziano A manifestare Delle abilità Che sono tutte connesse Con il concetto di visione Quindi visione del futuro Visione di una zona remota Del mondo Visione delle tue bugie Il concetto di visione Si pensa sia collegato A un virus che si possa trasmettere E quindi Le istituzioni creano Una struttura In cui rinchiudere E mettere appunto In quarantena Questi individui Per studiarli Per sfruttarli Forse per guarirli E ovviamente Nel frattempo Dentro si creano Due fazioni Chi vuole evadere E quindi usare anche Questi doni Per capire come Lavorare un piano Per evadere E chi invece Avendo visto il futuro Dice no Noi è giusto che stiamo qua Questa diventerà La nostra casa La piccola nota È che Questa serie È stata scritta Mentre È stata realizzata Mentre Stava arrivando La pandemia Quella vera Sì infatti Infatti quando ho visto Parlare di mascherine Di cose Ho detto Oh mio dio È profetizzazione O sfortuna O coincidenza Incredibile Forse No ma non solo Cioè parlava di persone Che vedevano Il futuro E si parlava Di una quarantena Cosa che Non era nel nostro Diciamo Vocabolario Fino Fino a qualche anno fa Tanto che Con Con Companini Comics A un certo punto Ci siamo detti Ma non è che stiamo facendo Una cosa di cattivo gusto E dovremmo Fermare Il titolo Però poi ci siamo detti Ma non è contagion Comunque L'elemento Della pandemia È tutta una metafora Per parlare Dei visionari Di quelli che hanno Una visione Che vengono Considerati dei pazzi Eccetera Quindi poi siamo andati Avanti lo stesso Quindi questo è Il primo La prima graphic novel Che è uscita Dove l'intento era Cerchiamo di creare Una specie di Storia in cui Gli X-Men Sono chiusi dentro Un carcere Sostanzialmente Sì Sì E però Gli X-Men Non hanno i soliti poteri Raggi dagli occhi Ma sono tutti poteri Mentali E quindi Lì ci siamo divertiti Facendo Un prodotto Che Strizzava molto L'occhio Ai comics americani Sì Infatti Qualche influenza Si vede C'è tanto di nuovo C'è uno dei poteri Che io adoro Possiamo dirlo Insomma C'è una persona Che diciamo Che se si smette Di essere osservata Viene dimenticata Io su quel personaggio Ho detto Qua ci si potrebbe Costruire Un'opera da sola Un film da solo Praticamente Quindi Infatti Vabbè Lo diciamo Sono contento Che quel personaggio Poi non venga lasciato Lì Da solo È molto bello Se amate tra l'altro Anche Il tema carcerario Il tema evasione Infatti Scusa Io Scherzo sempre Dicendo In realtà Lui Lui c'è in copertina Ma noi ci siamo dimenticati Che esiste Perché non è disegnato Capito Certo Certo Quindi lui c'è Ma semplicemente Era un po' Lui c'è Ma esatto Ma noi ci siamo dimenticati Di lui Bellissimo Bellissimo Quindi insomma Questo Quarantine Prophets Comunque È appunto Un'opera che trovate Tra l'altro Sul sito Di Panini Comics La potete ordinare In fumetteria Insomma Ovviamente Tutte le cose Di cui parliamo Sono in commercio E anzi Vi invito caldamente A comprarle Perché sono veramente Veramente belle Quindi insomma Profeti Bisogna capire Eccetera eccetera Carcere E questa è un'opera Che tra l'altro Ripeto Si può leggere Tranquillamente da sola Quarantine Prophets Ma non finisce qua Non finisce qua Perché dopo Quarantine Prophets Ci spostiamo in Italia In un'Italia Tra l'altro Anche qua In questo periodo Forse sei stato Profetico tu In questo caso Le storie Di Possessioni Diaboliche Di preti Di esorcismi Sono ritornate Molto alla ribalta E Vengono raccontate Anche in Carisma Carisma Che ha anche Tra l'altro Un romanzo Pubblicato da La corte editore Quindi Panini Comics E la corte editore Hanno fatto questa Tradunion Poi Fabio ce ne parlerà meglio Ora ci stiamo arrivando Appunto Allo svelare il progetto Quindi romanzo Romanzo e fumetto Ci raccontano di Una duplice visione Io la chiamo Di scienza e fede Che più che scontrarsi Devono collaborare E magari in qualche modo A volte accorgersi Di essere anche la stessa cosa In alcuni contesti Complementari 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 E ci viene Spiegato Non voglio dirvelo troppo Magari se vuole lo fa Fabio Che cos'è effettivamente Questo Carisma Tra l'altro Leggendo Carisma Io ho anche detto Però è anche qualcosa Che si legherebbe bene A Prophets Cioè Ci vedo dei punti in comune Su cos'è il Carisma Sui poteri dei profeti Ho detto Ok Poi La testa mi esplosa dopo Per adesso Limitiamoci Limitiamoci a parlare Diciamo di Possessioni diaboliche Preti che devono Collaborare Insomma Raccontaci brevemente Carisma Ma l'idea diciamo Che era quello di fare Un X-Files Dell'anima Che invece che Guardare fuori Guardasse dentro No? E quindi noi abbiamo Un esorcista E una neurobiologa Che vengono Incaricati Da un'organizzazione Più o meno Diciamo Limpida Di studiare I vari casi Di possessione Al fine Di Redigere Un rapporto Finale Uno studio Su che cos'è La possessione E che cos'è L'esorcismo Sostanzialmente Quindi ovviamente Il prete Avrà Sempre Una Rattura Demonologica Di quello che Sta succedendo Mentre per la neurobiologa Spesso sono Malattie mentali Anomalie Elettrochimiche Del cervello C'è anche un terzo Incomodo Che è un ragazzino Che secondo il prete È un ragazzino Posseduto Che però Ha il dono Di riuscire a parlare Con i demoni Dentro i posseduti E invece Per la neurobiologa È Un esp Cioè uno Che sta Attingendo A delle parti Del cervello Che noi Abbiamo spento Sostanzialmente Invece lui È in grado Di utilizzarle E già si crea Un triangolo Perché la scienziata Dice ma tu Stai usando Questo ragazzino Per i tuoi scopi Per fare Gli esorcismi Quando dovresti curarlo Mentre lui dice Ma questo è il disegno Divino Io lo sto usando Per fare quello Che è giusto E questo È inventato In Italia E L'idea invece Qua Era quella Di avvicinarci Più sui toni Io odio questo termine Ma viene usato così I toni Delle graphic novel Quindi Un disegno Un po' più D'autore Incisivo Quindi questo È Carisma Diciamo Sì Infatti vi mostro Comunque Parte Dei disegni Vedete C'è comunque Una rottura Della tavola C'è meno Meno influenza Diciamo Dal comics americano Si va più Sull'europeo Poi tra l'altro Ci sono anche Dei contenuti Extra interessanti Interviste Cose In cui parli Proprio del fatto Che all'inizio Si pensava Magari A una strada Poi Via via È nata l'altra Tra l'altro Il romanzo Poi è stato scritto Praticamente Da Silvia Americone E Maria Rita Porretto Che io Tanto adoro Sono lettore Di Dilan Dog Quindi Bravissime Bravissime Che ti hanno aiutato Anche un po' Perché il bello è questo Che hai messo su Anche una squadra Cioè hai creato Veramente un team Da un'idea comune E tirando fuori Diverse opere Che è qualcosa Che secondo me È molto figo Da fare E che forse Aiuta anche un po' Il mondo fumetto Secondo me A essere bello Quando è collaborativo Quando è Quindi insomma Se amate le storie Di esorcismi Appunto Le cose un po' Alla X-File L'uomo di fede Contro l'uomo di scienza Un po' alla Lost Ci sono dei dialoghi Che ho amato Strepitosi Strepitosi Cioè quando parlano Appunto lui e lei C'è un momento bellissimo Io voglio sempre raccontare poco Perché ragazzi Dovete veramente Leggerle queste cose Però c'è un momento Post Incontro Con Una ragazza Diciamo che è stata Impossessata E Loro hanno proprio Una visione drasticamente Diversa Cioè ma La finestra esplosa Perché il demonio Ha voluto farla esplodere No gli risponde lei Perché probabilmente Il vetro era fragile Perché in quel momento E il prete dice Sì ma è successo quindi Proprio in quel momento È solo una coincidenza E lei gli dice Sì ma è una coincidenza Proprio perché è successo In quel momento Esatto Se si fosse rotta In qualsiasi altro momento Sarebbe stato Ah sai Esplosa la finestra Boh Quindi cioè C'è veramente questo ragionamento Sulla visione del mondo Che ho Che ho amato E tra l'altro Il romanzo di fatto Approfondisce anche Questa cosa Ne è complementare Quindi Insomma Tanto potete leggerli Anche nell'ordine in cui volete Questa cosa è Molto molto bella Potete leggere Uno o l'altro Solo uno o solo l'altro Leggerli Come volete Insomma è Potete sperirli Come volete Quindi carisma Su Panini Comics Il fumetto La corte editore Per il romanzo O comunque Su qualsiasi shop Libreria Insomma Fatevi Fatevi vostri Poi alla fine Facciamo comunque Un riepilogone Poi è arrivato Il mio preferito Te lo dico già così Te lo dico subito Perché da lettori Da grande lettore Marvel Quale sono Amante di supereroi Anche se poi Ce li ritrovo sempre Un po' a volte Nelle cose che leggo Arriva Carnivalia Arriva Carnivalia Che è Questa è la cosa bella Perché quando Da fuori Ho detto Non lo so La copertina mi sembrava Non so perché Sai quando Non dico che non mi ispirassero Ma però rispetto agli altri due Ho detto Bizzarro Poi l'ho letto Ed è diventato il mio preferito Quindi credo sia emblematica Questa cosa Carnivalia Ci racconta di una maschera Di una maschera Che può rivelare Chi sei davvero Ma non Come quella di The Musk Che ti faceva trasformare In un essere verdognolo E criminoso Ma veramente In qualche modo Va a Esprimere quasi un desiderio Cioè se tu ti senti Un supereroe Che può volare Ecco Per un determinato periodo Di tempo In una determinata condizione Questa maschera Ogni 200 anni Ogni 200 anni Con una configurazione astrale Insomma Servono un po' di Di Ti trasforma In quello Da cui sei travestito E purtroppo Quella notte La maschera È in una festa In maschera E quindi tutti Si trasformano In quello Da cui sono travestiti Ora vi faccio vedere Una bella tavola Quindi sì Festa in maschera Un sacco di adolescenti Quindi se tu arrivi vestito Da sacco della spazzatura Peggio per te Se arrivi vestito Da superman Probabilmente ti va molto bene Quindi Già è bella questa cosa Nel senso che Mi piaceva vedere anche Come poi I vari Insomma Partecipanti alla festa Avessero subito Sfortuna o fortuna Da questa cosa Tipo Questo lo possiamo dire C'è una ragazza Che è travestita da zombie E infatti Diventa una zombie Poverella Ecco questa è la festa Perché comunque Anche dal lato grafico Sono sempre delle Super figate Ovviamente non finisce qui Nel senso che C'è un motivo Perché questa festa Sta diciamo Essendo in essere C'è un posto specifico Quest'isola C'è diciamo Un Governatore Di quest'isola Che è proprietario Di fatto dell'isola E insomma C'è chi non ama molto Né lui Né quello che sta facendo All'ambiente Quindi ci sono delle proteste C'è adolescenza Scontro Anche generazionale Sono veramente Tante cose Che ho amato E poi ci sono Tanti omaggi Anche no Veramente i supereroi Io Non so se è stata Un'indicazione tua O del disegnatore Devo andare a ripescarlo Pardon ma Veramente troppi nomi in testa Bruno Frenda Non so se è un'idea tua Ma io C'è a un certo punto Un nemico di Spider-Man Che si chiamava Chance Che ha Questo casco giallo Con dei tubi gialli Che gli arrivano alle mani E lui Spara tipo E c'è uno identico Quindi lì ho detto Non so se è di Fabio Non so se ha detto Il disegnatore di Vertity No questa è sua Io da amante Dei fumetti Marvel Lì sono impazzito E quindi insomma C'è questo gruppo Che vedete qua Che chiaramente Grazie alla maschera E alla festa Ottiene Dei poteri Ovviamente questa Era una simpatica ragazzina Che si era travestita Da tigre Ora è una tigre Non vi dico di più Però è Io l'ho veramente amato C'è anche un po' Un discorso Su una maschera Che indossiamo Tutti i giorni Per vivere No? Sì Noi Noi alla fine Siamo quella maschera Non è che la indossiamo No? Quindi C'è questo paradosso Per cui noi Se nel mondo esterno Agiamo in un certo modo È vero che dentro Ci sentiamo Magari in un altro modo Ma di fatto Noi stiamo diventando La persona Che sta agendo Nel mondo esterno Quindi c'è anche Questo discorso qua Tutto affrontato In maniera Molto pop Cioè l'idea Era di fare Un grande omaggio Ai grandi film Anni 80 Infatti c'è la classica storia Dello sfigato Che si innamora Della bionda C'è un leader Proprio fatto Apposta quasi Certo certo Ma si vede La migliore amica Innamorata di lui Tutte queste cose qua L'amico un po' goffo Che poi in realtà Lo aiuta È proprio Fatto come dire Se fosse un film Dell'89 Sarebbe perfetto Ma tra l'altro C'è una citazione Che non dico Dov'è e qual è Perché sarebbe Troppo spoiler Ai Goonies Palese E infatti poi Anche nei dialoghi Si rimarca questa cosa Sembra quella cosa lì Però non voglio dire Davvero di più Io l'ho veramente adorato L'ho veramente adorato Tra l'altro Di tutti i fumetti Che abbiamo fatto vedere Ma di cui non stiamo Mostrando il romanzo Arriverà anche il romanzo Per la corte editore Quindi Poi anche sui miei canali Comunque Lo ricorderò Guarda Ti anticipo Scoop Diciamo Il romanzo Sarà ambientato 200 anni prima E spiegherà Come la maschera È arrivata sul fondo Di quell'isola Quindi praticamente Saremo Su Su un veliero Di schiavisti Ok Perché già un po' Si vede Viene raccontato Di questa maschera E si intuisce Di come sia finita Nei fondali marini Quindi il fatto che Venga approfondito Fantastico Carnivalia Lo trovate su PaniniComics.it Ma anche in fumetteria Insomma Andate a Chiedetelo E veramente Leggetelo Perché anche questo Per me è fantastico Ora voi direte Vabbè ci avete raccontato Tre storie Un carcere Con dei profeti Che vedono il futuro Molto comics americano Una sorta di X-Files Ambientato in Italia Con gli esorcismi Un party di ragazzi Che diventano Quasi dei supereroi Grazie a una maschera Ritrovata negli abissi Arriviamo al quid Di questa live Siamo stati anche Molto bravi Con i tempi Cioè IF Fondazione Immaginaria Che è già Un romanzo E un fumetto Lo dico subito Il romanzo È di fatto Un prequel Il romanzo Devo ancora finirlo Perché non voglio correre Io amo godermi le cose Ma dove sono arrivato Già piuttosto avanti Si capisce che è Un prequel Sono partito però Dal fumetto Che è un po' Il pane mio Ma è bellissimo Appunto questa cosa Di passare Da uno all'altro E qui Faccio parlare Fabio Subito perché si inizia a parlare Di Imagoverso E così magari Fabio ci spiega Che cos'è Ringrazio nel frattempo Bea per l'abbonamento Poi ti ringrazio meglio Grazie a Bea Vai Fabio Raccontaci cos'è Imagoverso Allora faccio un passo indietro Vai Io vengo da L'audiovisivo Quindi ho fatto film Pubblicità Videoclip Eccetera eccetera Però sono Un amante di fumetti Da quando ho 5 anni Ok Proprio Ho gli occhi a cuore Sui fumetti Quindi appena La mia professione Mi ha aperto un po' Di porte Ho iniziato subito A parlare con Panini Per insomma capire Cosa possiamo fare insieme Quindi stavamo valutando Tutta una serie di idee Di storie Per capire su quale volume Concentrarci Finchè entra Il mega direttore Lupoi E dice Grande Perché è una Facciamo una 3 Facciamo una 4 Facciamo un guaglio verso Io ho le lacrime Le devo firmare Va bene Però Non volevamo fare La classica cosa Che tu ti leggi 3 storie E poi Ah Sono tutti ambientate Nello stesso mondo Oppure peggio ancora Che adesso va di moda Tu ti leggi 3 storie Ah Sono ambientate Nello stesso multiverse Cioè Volevamo un'altra cosa E quindi l'idea è stata Ma scusa Colleghiamo le storie Perché sono delle storie Cazzo vuol dire Vuol dire che Il quarto volume Parla della fondazione immaginaria Cioè Una società segreta Che da secoli Si occupa di Vigilare Sull'immaginazione dell'uomo Cioè L'assunto è Se troppe persone Immaginano contemporaneamente La stessa cosa E la investono Dello stesso sentimento Aumenta La probabilità Che quella cosa Si manifesti Nel nostro mondo reale Quindi è un bel problema Quindi ci sono Man in black Anzi Man in white Sostanzialmente Che o intervengono Censurando i romanzi O se è troppo tardi Intervengono Cercando di fermare Le minacce Create Da quei romanzi Da quei fumetti E da quei film Quindi nel 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 volume Della fondazione immaginaria Prophets Carisma E Carnivalia Sono i tre fumetti Che ha fatto uscire Panini E quei fumetti Stanno generando I personaggi Che stanno entrando Nella nostra realtà C'è questa pagina Veramente spettacolare No ma poi c'è tutto Un discorso Narrativo E visivo Anche che hai fatto vedere Sulla metanarrazione Del fumetto Cioè loro lì Stanno uscendo Dalle tavole Praticamente Sì 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 Infatti ci sono Le strisce bianche Allora Disegni di Alessio Cammardella Che ho taggato prima Gli ho già fatti I complimenti in privato Insomma Ti saluta Vi saluta tutti Qua vedete infatti Un personaggio Che tra l'altro È un profeta Ha il Ha il Vestito diciamo Da carcerato Che si vede in Prophets E in effetti Si vedono Tavole di Prophets Tavole di Carisma Tavole di Carnivalia E quindi sì Come ha detto Fabio Per farvi proprio Un esempio Base Che c'è anche Nel fumetto Tutti noi conosciamo Sherlock Holmes A forza di leggere Romanzi di Sherlock Holmes Vedere Film su Sherlock Holmes Continuiamo a pensare A Sherlock Holmes A immaginarci Sherlock Holmes Sherlock Holmes Prende vita Ora fortunatamente Sherlock Holmes Se prende vita Diciamo che puoi magari Parlarci un attimo E anzi Questo lo possiamo dire Puoi farlo diventare Un alleato Infatti Lui che compare Nel nostro mondo Fa parte Della IF Come diciamo Consulente Perché avercelo Sherlock Holmes Che ti aiuta Ovviamente Nei casi da risolvere Diciamo Diciamo che se tutti Cominciamo a pensare Invece In coro A Godzilla Perché abbiamo visto I suoi film Abbiamo letto I fumetti Forse se Godzilla Compare improvvisamente Non lo so Nel centro di Milano Non è proprio La stessa cosa Che far comparire Sherlock Holmes Quindi la IF Si muove Va lì E neutralizza Godzilla Diciamo Lo fa scomparire Prima Che Possa diventare Tangibile E diventare un problema Per il resto del mondo Quindi Gli IF Esistono Ragazzi Noi non lo sappiamo Ma loro ci sono Quindi anche in questo momento Probabilmente stanno cancellando Delle cose Che noi stiamo Immaginando Questa cosa Mi ha sconvolto Perché Leggendo Ovviamente Come ha detto Fabio prima E come io stesso Ho detto nella presentazione Sono tutte opere Leggibili a se stante Cioè voi potete leggere Comunque IF Senza aver letto Quello che c'è prima Perché Vi viene spiegato Che alcuni personaggi Che noi vediamo Semplicemente arrivano Da un fumetto Non è un problema Ma se quel fumetto Voi l'avete letto Quindi se avete letto Carnivalia Carisma Prophets È fantastico Perché vedete Personaggi Di cui magari Vi siete innamorati Che avete conosciuto Rispuntare fuori Innanzitutto Con le loro avventure I loro problemi Le loro storie Il loro carattere Disegnati tra l'altro Il bello perché c'è Ovviamente il tratto Comune Del fumetto Ma comunque Si nota la personalità Delle opere Da cui derivano Cioè secondo me È stato fatto un bel lavoro Anche grafico Per dare chiaramente Un look unico E quindi non dare Quell'idea proprio di No Che ha incastrato Roger Rabbit Per dire Ma comunque Con la connotazione Dove arrivano Tra l'altro Anche questa cosa Secondo me A livello grafico La riconoscibilità Dei personaggi Cioè appena ho visto Il profeta uscire fuori E ho visto quel tatuaggio Sull'occhio Nonostante poi tu ci scherzi Nella sceneggiatura Dicendo Ah ma guarda che in realtà Questo non era neanche Un personaggio principale Era un mezzo comprimario Io appena l'ho visto Ho detto È lui È lui Tra l'altro era molto interessante Quindi ho detto Meno male Come dire che è tornato Perché voglio sapere No ma poi È tutta una roba È tutta una roba nerd Perché lui Nel carcere del fumetto Di Prophets È in coma E dicono Che con la sua mente Sta viaggiando In altri universi Che si sta immaginando Noi nel fumetto di Heath Vediamo cosa sta facendo lui Mentre è in coma Di là Sì Perché lui Viaggia negli diversi Immaginari E scopriamo Tra l'altro Infatti esatto Questo suo potere E che come viene detto Ah ma in quel fumetto Non era stato ancora rivelato Lo stiamo rivelando qua Quindi ci sono anche Questi collegamenti Meta Referenziali Per me fantastici Quindi Per quello All'inizio sembrava Che vi stassimo raccontando Tre storie veramente diverse Queste tre storie Sono tre storie lette Tra l'altro Dal vero protagonista Possiamo dire Della storia O in qualche modo Forse anche il villain Della storia Chi lo sa Che è questo ragazzino Nerd Poco capito dal padre Per una serie di eventi Diciamo che hanno portato In realtà il padre A smetterla Forse di capirlo Diciamola così E quindi le cose Che lui legge A un certo punto Si manifestano Quindi Io Insomma Chi mi segue lo sa Qua intorno Veramente di tutto Se dovessi essere Io il ragazzino Di quella storia Saremo freschi Però ecco Questa idea è veramente bella Cioè lavorare sull'immaginario Ed è questo Che mi è piaciuto Di come è utilizzato Il multiverso appunto Perché la premessa Che avevo fatto Era Ok Sono cresciuto a pane Marvel Per carità Però Cioè un conto è un universo Persistente Come quello Marvel Che va avanti Veramente da tanto Però dopo un po' Non c'è più Un vero interesse Dal dire Ok Sì C'è Tizio Che entra nella storia Dell'altro E tutti fanno Wow In sala Tutti fanno l'applauso Perché è comparso Ma cosa mi ha dato Questa cosa? Purtroppo sempre Molto poco Oramai Ecco Forse Spiderverse Con il suo multiverso Ha saputo giocare bene Con l'identità Del multiverso Ma sono pochi ormai A farlo Quindi quando A un certo punto È arrivato l'immagoverso Quindi il multiverso Dell'immaginazione L'ho trovata geniale L'ho trovata geniale Perché mi piace questa cosa Anche perché è una cosa Che tutti Secondo me Prima o poi Abbiamo fatto Cioè da piccoli L'idea di Ma se le cose che sto leggendo Si manifestassero Cosa succederebbe Ma se questo Ma se quell'altro E non è un caso Che gli if Perlomeno la squadra Che vediamo noi Ma diciamo Le squadre d'azione Degli if Sono anche fatte Da ragazzini Cioè da Persone Da piccole persone Che Chiaramente hanno Un'immaginazione Quintuplicata Probabilmente E un'accettazione Anche dell'immaginazione Ancora più elevata Degli adulti Di noi adulti Che a un certo punto Basta Diventiamo dei Dei musoni No in realtà no Fortunatamente poi Cerchiamo di affrontare Anche il presente Però è comunque diverso Ma diciamo che Cioè nel mondo in cui viviamo C'è una progressiva Scissione Man mano che cresce Certo La vita vera E l'immaginazione Mentre Seppur divertente Seppur Intrattenitivo E tutto quello che vuoi Dietro sia il romanzo Che il fumetto Di Diff C'era L'idea di dire Guardate che L'immaginazione È il primo passo Dell'azione Concreta Cioè Tutto quello Che viene immaginato Potenzialmente Può diventare Reale E tutto quello che fai Prima di farlo Lo immagini Mentre noi siamo Abituati a pensare Che l'immaginazione È una cosa staccata Da Certo Diventa Il momento in cui Puoi svagarti Dalla vita vera È l'immaginazione Invece per Un ragazzino Per un bambino Per un bimbo È di fatto La stessa cosa Io L'ho raccontato A volte questo aneddoto Che mi fa sempre sorridere Io ero già Grandicello Però c'era questo bambino Che stava leggendo Dragon Ball Ma veramente piccolo Io credo Avessi iniziato Non dico a leggere da poco Ma Diciamo Era veramente piccolo E mi ricordo Che lesse Un volumetto Di Dragon Ball Mentre io ero lì Vicino a lui Eravamo a una festa Adesso insomma Non sto lì A approfondire il contesto Chiuse questo albetto Di Dragon Ball E poi mi iniziò a parlare Di quello che aveva letto E mi disse Che Ma si vedeva Che era veramente trasportato Cioè stava parlando Della realtà Lui in quel momento Era felice Che Goku Avesse sconfitto Majin Bu Perché se Majin Bu Fosse arrivato Dove eravamo Noi in quel momento Avrebbe distrutto tutto Cioè lui disse proprio Se Majin Bu Fosse arrivato qua Ti rendi conto Mi fa Avrebbe distrutto questa casa Le piastrelle Poi si focalizzava Su questi dettagli Veramente ingenu I pali della luce Mi ricordo mi disse Io ovviamente Dentro di me Ho avuto quel momento In cui stavo Quasi per ridere Ma poi mi sono fermato E ho detto Meno male Meno male Gli ho detto Che Goku l'ha sconfitto E lui era contentissimo Di questa cosa E io ho pensato Ma è favolosa Questa cosa Cioè credere comunque Che quello che aveva Appena letto Era un resoconto Quasi Storiografico Cioè era successo Un incontro E Goku Mi ha salvato Il mondo E lì ho capito Qual era il potere Comunque Dell'immaginazione Appunto E di chi In quell'età Non discerne Effettivamente Cioè deve ancora imparare A discernere Quindi L'ho ritrovata Anche un po' In If Leggendo If Ho detto Ah ok Vedi Sono di nuovo Con quel bambino Che anni fa Mi parlava di Dragon Ball Allora Un'altra cosa Che mi è piaciuta Di If Sono le citazioni Che Sono sempre Chiaramente Ogni tanto divertenti Divertite Ci mancherebbe Ma non sono mai Il cuore Comunque Della narrazione Che è la cosa Che secondo me È fondamentale Quando si parla Di multiverso Io Sul mio canale Parlo molto di cinema Ma la mia chat Lo sa C'è un po' Questa piaga Noi la chiamiamo Del cameo Cioè del fatto che Vado al cinema E due cose mi interessano I camei del film Quali altri personaggi Appariranno Si parla Ovviamente spesso Di supereroi E qual è la post credit Cioè Cosa vedremo Alla fine del film Che cosa ci aggancerà Al prossimo E io tutte le volte Dico Ok ma quindi Del film Alla fine Non ci importa nulla Cioè ci interessa Solo il momento Dove Vedremo quel personaggio Questa cosa Non c'è Anzi Io sono anche Un grande fan di Lupin Quindi mi hai veramente Fregato in tutti i modi Possibili Fabio Perché quando Ho visto entrare L'entrata in scena Diciamo del Perché il fumetto Inizia in media stress Con un caso da risolvere Poi si evolverà In qualcos'altro Perché c'è Arsenio Lupin Che ovviamente Si è manifestato In Insomma Grazie all'immagoverso Arsenio Lupin Terzo ovviamente Quindi è proprio lui E tra l'altro Vederlo sfrecciare Con quest'auto Gialla Ma contemporanea Mi ha Mi ha fatto Innamorare subito E poi ci sono Citazioni a tante cose C'è insomma Lo spadone Di Ammazzadraghi Gigante Insomma C'è veramente di tutto Mi piaceva guardare Perché poi c'è questo Museo Diciamolo Dove la IF Può anche Prendere magari Delle cose che gli servono Cioè Potenti armi Potenti artefatti Dell'immaginario comune Dell'immaginario collettivo Che vengono custoditi E poi utilizzati Vedrai Nel finale del romanzo Cosa usano Eh Guarda Infatti A parte che a un certo punto C'è una citazione avatar anche Molto bella Di un certo Di uno scafandro particolare No ma nel fumetto Nel fumetto Nel fumetto Certo Sì sì Quindi ho detto Ok E Quindi non vedo l'ora Di finire il romanzo Sei arrivato a Diciamo A scoprire chi è il villain Forse no No non ancora Non ancora Ma secondo me Non manca molto Non manca molto Però Il romanzo Come abbiamo detto Tra l'altro È un prequel di fatto Perché ci racconta Quello che Leo Il personaggio Diciamo principale Vive Prima o poi Come è stato arruolato Come è stato arruolato Nella IF E Mi piace leggerlo come prequel Poi come abbiamo detto Potete leggere Prima il romanzo E poi il Il fumetto Perché nel fumetto C'è un momento In cui viene accennato Qualcosa del suo passato Una cosa anche Bella grossa Che viene messa lì E io ho detto Ok Non vedo l'ora Che me ne parliate Infatti poi Non vedo l'ora E che poi Si legherà anche A un bonus Di cui parliamo Fra poco A conclusione live L'intervista Perché L'imagoverso Ovviamente Non si ferma qua Non si ferma Questi Quattro prodotti Quindi Allora Sicuramente L'intenzione Di andare avanti Comunque Ce l'ha Ce l'avete In qualche modo Ti piacerebbe Andare avanti Perché ricordiamo Che per adesso Ci sono Quattro graphic novel Anche a me È un termine Che non piace Però diciamo Quattro Albi Autoconclusivi Che Lasciano comunque Degli spunti Eventualmente Per poter raccontare Altro A fumetti E quattro romanzi Due sono usciti Credo che Quello di Prophets Sia Indirittura D'arrivo Dove arrivare Forse a fine maggio Poi c'è stato Un lieve ritardo Ma dovrebbe arrivare Molto presto E immagino Poi arriverà Appunto Anche quello Di Carnivalia Che non vedo l'ora Perché appunto Mi hai già detto Alcune cose Di cosa potrebbe raccontare Io non vedo l'ora Quindi quattro fumetti E quattro romanzi Che formano questo Un universo narrativo Enorme E sfaccettato E variegato Perché come ho detto Sono veramente Delle cose molto diverse Quindi Se ce n'è una Che in qualche modo Forse vi Non so Vi acchiappa meno L'altra potreste adorarla E quando poi le vedete In qualche modo Collidere Potreste innamorarvi Di tutte In un In un modo Nell'altro Ma c'è una sorpresa Diciamo Perché Nella Alla fine Diciamo di If Questo lo possiamo Lo possiamo dire Ci viene detto Che arriverà Un romanzo Però questo romanzo Non reca il nome Fabio Guaglione Io Ho detto Ok Reca un nome Abbastanza particolare Che avevo già ritrovato Proprio in If E ho detto Forse ho capito Qual è il gioco Tra virgolette Che Fabio Vuole fare Ovviamente Ovviamente Non vogliamo Spoilerarvi troppo Ma Se vuoi accennarci In qualche modo A questa cosa Tanto non è neanche Un grande spoiler Alla fine Parlare di quel personaggio Che scriverò No ma dimmi meglio No ma dimmi meglio Che cosa hai Cioè A cosa ti stai riferendo adesso A lui A lui Aspetta Aspetta A uno che ha preso Una serie di appunti Innanzitutto Che ho letto molto Voracemente Alla fine dell'albo Perché Ecco qua Vedete C'è questa parte Alla fine Che dovete leggere Assolutamente Perché Mi sembrava Di essere tornato Agli inserti Di Watchmen Di Alan Moore Che è redatta Da un certo Stephen Cain E Certo C'è una copertina Diciamo Che a un certo punto Si vede In If Non voglio mostrarla Perché È comunque Non lo so Non voglio che la scopriate voi E Io quando ho visto Quel romanzo Ho detto Ok Cosa stanno Cosa vogliono combinare E quindi Se ho capito bene Probabilmente Potremmo leggere qualcosa Di Stephen Cain Diciamo che ovviamente In un In un In un imago verso Con questo tipo di leggi È ovvio che Il cattivo Più cattivo Può essere solo Uno scrittore E su questo Perché qualsiasi cosa Scriverà Ovviamente Può creare Poi delle cose Che si manifestano Quindi certo Esatto E sia nel romanzo Che nel fumetto Dicono Che è lo scrittore Più terrificante Che esista Perché ti può Veramente far venire Paura Mentre leggi Eccetera Si chiama Stephen Cain Perché è un omaggio A due scrittori Di questo tipo Uno reale E uno fittizio Quello reale Ovviamente Stephen King E quello fittizio E quello fittizio È Sutter Cain Non so se è presente Di Il seme della follia Di John Cutter Si 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 Però Ti posso dire Che La sorpresa Dovrebbe arrivare Spero per Luca Ok Ma non sarà Un romanzo Di Stephen Cain Però quasi Ma non ti posso dire Ok Va bene Ok Non sarà un romanzo Di Stephen Cain Ma va bene Va bene Mi piace Mi piace Perché Sono totalmente a bordo A Luca ci sarò Tra l'altro Quindi se ci sarai anche tu Verrò a salutarti Assolutamente E a questo punto A godermi la sorpresa Che speriamo Arrivi in tempo Sarà più Sarà più collegata Col romanzo Diciamo Ok Ok Figo Molto figo Molto figo Quindi insomma Come vedete C'è anche un po' La voglia di giocare Con questo In questo Magoverso E in effetti Per come ci viene presentato Nel 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 fumetto E poi anche Immagino nel romanzo Insomma È qualcuno In effetti Che potrebbe essere Molto temibile Come dicevi tu Perché Ha il potere Dell'immaginazione Dalla sua E È legato Anche al personaggio Di Leo Possiamo dire C'è una frase Che appunto Mi ha fatto proprio dire Ok E poi infatti Mi ha fatto fiondare Sul romanzo Ma quando lo finirò Poi avrò modo Sicuramente Di dirti Di farti vedere La mia mascella Spalancata Probabilmente Quindi Quindi Chiudendo un po' Diciamo Tutto quello che abbiamo detto L'immagoverso L'universo Dove l'immaginazione È sovrana Qualsiasi cosa Venga pensato Ideato Dalle persone Se diventa una cosa Di massa Si manifesta E quindi c'è Questa Questo shield Questa CIA Questi Men in black Questo Gruppo di Avventurieri Di agenti Che deve fermare L'immaginazione Che può sembrare Una cosa brutta Da dire ovviamente Ma il loro scopo è quello di Evitare insomma Che i guai nel nostro mondo In qualche modo Prendano vita E in questo mondo Immaginario O forse in questo mondo Realistico Che noi non sappiamo Perché ve l'ho detto Che gli if Secondo me ci sono Si manifestano I personaggi Di altre tre opere Cioè Carnivalia Con una maschera Che Ti rende Quello che sei O quello che Vorresti essere Carisma Dove Gli esorcismi Sono forse più reali Di quello che la scienza Vuole e vuole dirci O forse la scienza È in realtà lei A governare La verità Degli esorcismi E Quarantine Prophets Che Insomma ci fa vedere come Prevedere il futuro O in qualche modo Avere poteri mentali Può essere una Grande arma E quindi sicuramente Il governo Deciderà di Di Sfruttarla Facendo finta Di curarla Quindi un grande Omaggio Anche un po' Alla Ai Insomma Le tematiche Di fuga Di carcere Trovate tutte queste opere Quarantine Prophets Carisma Carnivalia E if Su PaniniComics.it Per quanto riguarda I fumetti I romanzi Invece sono Con la corte editore Li rifaccio vedere Per adesso c'è il romanzo Di Carisma Bellissimo Approfondisce tantissimo Questo ve lo consiglio Così Un consiglio mio Di leggerlo dopo il fumetto Perché secondo me è proprio Un'espansione Che a me è piaciuta Piaciuta tanto Poi Ognuno la vede come vuole If Fondazione Immaginaria Questo invece lo sto leggendo Come prequel Ma è questo il bello Dell'immagoverso Potete leggere tutto Nell'ordine in cui volete Potete fare anche i pazzi veri E leggere If E da lì poi Andare a approfondire I personaggi Che sono comparsi Secondo me sarebbe Sarebbe fighissimo Gli altri due romanzi Arriveranno molto presto Per la corte editore Ma l'ho già detto Sui miei canali Quando succederà Lo ricorderò Quindi il romanzo Di Carnivalia E il romanzo Di Quarantine Prophets Quindi mi raccomando Seguiteli Poi vediamo Lucca Spero di sì Ma se non sarà Lucca Sarà molto presto Fabio magari ci racconterà Qualche altra avventura E speriamo poi Che questo Immagoverso prosegua In qualsiasi forma Ovviamente Noi con Compagnini Ci siamo lanciati In una cosa Molto avventurosa E molto audace Nel senso che In un momento in cui Siamo congestionati Da migliaia di uscite Eh sì E anche magari L'ennesimo volume Su Spider-Man Deve sgomitare Per andare Alla ribalta Figurati cosa vuol dire Lanciare quattro brand nuovi Cioè ovviamente Ci siamo cercati Una strada Molto molto impervia Per quello sai Sono belle queste live Perché si può parlare Non Ho capito Facciamo Live su The Aco-Live Star Wars Eccetera Certo Certo Ci sono tanti prodotti No No è sempre bello A me piace sempre cercare Un po' Anche le cose Ma sai perché secondo me Perché secondo me Ce l'hanno il suo pubblico Però quel pubblico Deve 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 Esistono Eh sì Sì Perché sai Molti dicono Eh ma c'è sempre le stesse cose In realtà Fortunatamente In questo momento storico Esce un po' di tutto A livello di serie tv Di film Di fumetti Però magari Ti arrivano meno I fumetti Che paradossalmente Tu saresti più interessato A leggere Sì 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 Perché chiaramente Il vincente del momento Viene spinto dall'algoritmo Dalle leggi di mercato E resta sempre in vetta Eh E non ci viene mostrato altro No Poi insomma In questo periodo Tra algoritmi Intelligenze artificiali Di tutto Insomma Social e altre cose Non sono sempre Dei territori Freschissimi Eh sì Tra l'altro Eh Come dicevi tu prima Immagino che quindi La cosa sia andata Veramente così Cioè Tra virgolette C'era l'opportunità Immagino Anche proprio Contrattuale Di poter realizzare Una serie di cose E quindi perché Fare quattro volumi Di carisma Quando invece possiamo fare Quattro volumi Di quattro cose diverse Che sono quattro cose diverse E allo stesso tempo Sono anche In qualche modo La stessa cosa Quindi Eh È stato molto Molto coraggioso E Eh Cioè Complimenti a Capanini Per aver detto sì Insomma mi hai detto Appunto c'era Lu Poi Bello Bello contento Quindi spero che Eh Questo Questo coraggio E questo Questo talento Anche comunque Perché Eh Sono cose scritte bene Disegnate bene Eh Che non si vedono sempre Lo dico da Veramente da Masticatore di fumetti In In quantità industriale Eh Quindi spero Guarda Diciamo che Sì Con le squadre di autori Autrici Disegnatori Disegnatrici Coloristi Coloriste Abbiamo cercato Di Arrivare A un tipo Di qualità Per lo meno Visivamente Che fosse paragonabile Ai Ai prodotti Top Stato Intensi Io penso Che ci siamo riusciti Sui testi Io spero Di aver fatto Delle cose carine Ma sono sicuro Che Silvia e Rita Hanno scritto Una cosa Molto bella E quindi C'è stato Anche tutto Un grosso lavoro Di coordinamento Poi ovviamente Sai È arrivato il covid Ci ha rallentato Tanto Ci sono un po' Diluite tutte le uscite Però Gran parte del lavoro Era anche quello Tutte le volte Di creare un volume Autosufficiente Quindi Reintrodurre i concetti I personaggi In maniera figa Non da spiegone Di modo che uno Volendo Si prende O un fumetto O un romanzo E capisce tutto Senza dover È stato Quello ha preso Tanto tempo Eh immagino Immagino Perché unire i fili Cioè tenere i fili Unire i fili E tenere comunque Attaccato lo spettatore Senza dovergli Veramente ricordare Ogni due per tre Le regole Le cose Eccetera Ma trovare comunque Modo di farlo Per dire ok Ti ricordo che le cose Stanno così Non deve essere facile Sui dialoghi Tra l'altro ti dico Che secondo me Te la sei cavata Veramente bene Anche perché Hanno sempre questo stile Molto Diciamo molto realistico Colloquiale Cioè Naturale Cioè mi sembra di sentirli Veramente parlare Forse ci può stare Che probabilmente Anche la tua Io penso ai dialoghi Di Sclavi Di Dylan Dog Adesso Non voglio farti tremare Con paragoni giganteschi Però quella era La forza di Sclavi Aver visto Tantissimi film Aver amato L'audiovisivo Tantissimo E capire che forse A volte La forza nel fumetto È farli parlare Veramente Come se stessero parlando Delle persone vere E Probabilmente Anche questo Aver lavorato Anche per Appunto L'audiovisivo Ti ha fatto scrivere Questi dialoghi Veramente in una maniera Quasi come se fossero Delle scene di un film Cioè Io che poi spesso Faccio le voci Mi faccio i doppiaggi In testa I dialoghi erano Tutti molto scorrevoli C'era sempre una battuta Venivano magari interrotti Non c'era la sindrome Di qui qua Cioè di queste frasi Magari dette a Prima parla uno Poi parla l'altro Poi parla l'altro E non c'è mai nessuno Che a un certo punto Interrompe Quindi anche vedere In If Che ne so La secchiona di turno Che fa una spiegazione Super Così Complicata Di quello che sta succedendo L'altro che ovviamente Dice ok Farò finta di aver capito Ma non è così E poi arriva la versione semplice Cioè Ci sono questi bei Botta e risposta Per me Molto Molto belli E ogni tanto I personaggi Trovano anche il tempo Di non parlare solo Della storia Che è un'altra cosa Secondo me necessaria Cioè Sta avvenendo qualcosa Parli di quella cosa Se è un momento concitato Ma in un momento di relax Ci sta Fare anche un accenno A qualcos'altro Sappiamo che nel cinema Che ne so C'è Tarantino Che no È il maestro Di queste lunghe scene Dove Gente a tavola Parla di cinema Ma no E tu dici Ma perché Mi stai Mi stai facendo parlare Da mezz'ora Di cinema Nelle iene Perché chiaramente Te li sta rendendo vivi Ecco Quindi anche Tirare fuori Dei piccoli momenti Dove Veramente parlano Anche di altro Pur mantenendo il focus Sulla storia Ovviamente Perché le pagine Sono limitate Insomma Bisogna anche Tenere conto Di quello E anche Del ritmo Ovviamente Della storia Me le ha fatti Proprio vivere Come persone Vere Quindi è un altro Punto di forza Secondo me Della tua scrittura Di queste cose E allargo i complimenti Ovviamente Anche agli altri Tipo Rita Silvia Insomma Che hanno fatto Veramente un gran Un gran lavorone Anche lato romanzi Perché Chiaramente Io da lettore di fumetti Eccetera eccetera Ed essendoci ovviamente Più fumetti Per adesso che romanzi Di questo progetto Il focus è andato Ovviamente un po' più lì Ma in realtà I due romanzi che ho letto Uno Lo sto finendo Hanno anche Un Un bel modo Di raccontare Cioè Non sono pesanti Non sono prolissi Credo si adattino bene Anche Un po' a tutte le età Nel senso che Non vanno a inseguire Un pubblico Piuttosto che l'altro Ma anche qua Credo in maniera naturale Cioè Non ci vedo anche Proprio una ricerca Sai quelle ricerche marketing Allora dunque Adesso dobbiamo stare attenti Perché Cioè ci vedo proprio La voglia di raccontare E che secondo me È la prima cosa Che poi Cattura il pubblico Perché a volte Vale più quello Cioè la voglia di raccontare Qualcosa davvero Che Qualsiasi indagine Di mercato Per farti dire Questa cosa funziona Questa cosa non funziona Io Mi illudo ancora Che questa cosa Che tu hai detto Il pubblico La sente a livello inconscio Cioè quando Un autore Un disegnatore Cazzo Vuole raccontare una cosa Al di là Di ragionamenti a tavolino Io spero ancora Che arrivi a chi legge No? Che Che senta che quella storia È onesta Magari È sbavata Non è perfetta Però gli arriva O una cosa Che la fa ridere O che lo fa riflettere O che lo emoziona O che lo suggestiona Io a questa cosa qua Ci credo ancora Ed è per questo Che magari Sono un cavernicolo Ma in questo momento Sono diffido tantissimo Di tutto quello Che sono Le intelligenze artificiali E mi sembra Che vadano A spezzare L'equazione fondamentale Di una storia Cioè una storia Per me È qualcuno Che racconta una storia A qualcun altro Punto Per me Il fatto che io Mi prompto una cosa E un'intelligenza artificiale Associa Delle robe Con una statistica E me la ridà Cosa sto facendo Sto parlando da solo Cioè non capisco Sì sì È tremendo È tremendo E tra l'altro Cioè Si parla di mago verso Di immaginazione Quindi quale morte Peggiore poi Dell'immaginazione Se non un enorme database Che poi E questo è il bello Perché in qualche modo È quello che siamo noi Cioè noi siamo un database Dal quale peschiamo cose E le reimpostiamo Quindi Cioè l'intelligenza artificiale Non fa nient'altro Che veramente rubare Il lavoro di immaginare Che è tremenda Come cosa Quindi Io sono sempre lì Che spero Insomma venga Bloccata Non credo Perché sai Che oramai È impossibile Bloccare le cose Però regolamentata Studiata Però ieri leggevo Che Tre major Hanno fatto causa Per violazione di copyright Su Sulle musiche Ah certo Mi sembra Sony Warner E un'altra Ti dirò A me sembra strano Che l'abbiamo fatto così tardi E mi sembra strano Che non siano partiti Con Tutto il visuale Quindi o perché stanno Facendo un report legale Abbastanza serio Per poter fare una causa Ma io non capisco Perché non capisco È un limite mio Come mai Le mega corporazioni Che creano Audiovisivo O anche solo Visivo Non si stiano muovendo Su questa cosa Cioè è veramente strano Io credo purtroppo Che la risposta Sia sempre il denaro Nel senso che probabilmente O devono accorgersi A un certo punto Di star perdendo un sacco di soldi E probabilmente lo faranno Perché a un certo punto Quando Forse anche l'ultimo artista Si sarà rotto Di farsi rubare Il lavoro E avrà detto No sentite O così O io Non vi scrivo Non vi disegno Con voi non ci lavoro Oppure Oppure L'altra Forse più speranzosa È che veramente Stiano preparando Una mossa Di quelle grosse Quindi bisogna muoversi Effettivamente Con i giusti crismi Insomma Fare i giusti passi E quindi ci vuole tempo Però sono d'accordo con te Cioè è una tempistica Che mi sembra Veramente strana Cioè io ho amici Amici autori Amici disegnatori Amici streamer Che già stanno facendo Un po' Operazioni di questo tipo Stanno cercando di muoversi Penso a Lorenzo Ceccotti Il mio amico Lorenz Che insomma Ha fatto un bel Un sacco di post A riguardo Però Sembra sempre Che parta da lì E mai dall'alto Tra virgolette Spero Spero le cose Evolvano in maniera positiva Perché altrimenti Altro che Io sono molto estremo Su questa cosa Non serve a niente Cioè Guarda Mi espongo Dicendo Non serve a niente Infatti Chi la vuole usare Chi quelle cose Non le sa fare Chi non sa disegnare Chi non sa Scrivere Chi non sa Ah ma ho capito E quindi Cosa c'è E quindi Dopo che persone Che non sanno disegnare E scrivere Creeranno 850 contenuti Al secondo Forse Cosa Cioè Come dovrebbe evolversi Meglio l'umanità Io non riesco più capire No sono d'accordo Sono d'accordo E infatti Tento sempre di parlare Neanche al pubblico Perché un po' Mi spaventa Quando il pubblico Li accetta In questa maniera Faccio un esempio Veramente banale Quando c'è stata la morte Purtroppo Di Akira Toriyama Un autore seminale Fondamentale Anche della mia vita Ci sono stati degli omaggi Che giravano Fatti con l'intelligenza artificiale E io ho visto Persone C'era una ragazza Una conoscente Che aveva condiviso Quest'immagine Dove c'era Goku Davanti alla tomba Di Toriyama La tomba Era Recava delle scritte Che se andavi a leggere Era una cosa delirante Per terra C'erano le sfere del drago Tutte con la stessa stella Sopra Che voglio dire No io ho visto alcune Tipo con undici sfere Con undici sfere Cioè con delle cose Che io dico Neanche hai contato le sfere Voglio dire Che è proprio il minimo Però condivise Dicendo Ah guarda Goku piange sulla tomba Mi commuovo Toriyama E io A volte non ce l'ho fatta Stare zitto Quindi spesso scrivevo cose Tipo io credo che se Toriyama Avessi visto questa roba Altro che rivoltarsi Nella tomba Però C'è capito Ci vuole quello Io spero che Non lo so La gente comprenda Che chi possa dirlo Come in questo caso Me e te In questo momento Lo gridi sempre Ogni volta che può Per in qualche modo Educare Senza volersi mettere Su una cattedra Educare nel senso Far capire Che è una merda Undici sfere del drago Goku con sei dita Che guarda una tomba Dove c'è scritto Tra l'altro C'era scritto una cosa Come un ordine Di un cibo Cioè vorrei due Wonton E vorrei tre gelaci Tipo un menu Perché probabilmente Ha preso le scritte Di un ristorante giapponese E ce le ha messe sopra Su una lapide Cioè questa roba È ghiacciante Capito Quindi ci vorrebbe una if Per queste robe qua Non per l'immaginazione Forse La if contro la if La if Potrebbe essere un Esatto Un'idea per un sequel Sì esatto La if Cioè Sì sì Dove a un certo punto La if dice Ma sai che c'è Forse se Godzilla compare È giusto farlo comparire Non fermarlo Ma piuttosto fermiamo All'intelligenza artificiale Questo è un po' Va bene Va bene Fabio Vuoi aggiungere qualcosa Un aneddoto Due cose Se no è stato molto bello Chiacchierare tutto ciò Adesso quando ti saluto Poi farò a tutto schermo Un altro bel Momento Mike Buongiorno Dove ricordo Dove trovare tutto Se vuoi dire qualcos'altro Però sei libero No questo Questo è il classico momento In cui tu chiedi Gli aneddoti E non me ne viene nessuno in mente No io dico Che per questo tipo di prodotti È fondamentale Parlarne Quindi anche se volete lasciare Le recensioni su Amazon Piuttosto che recensirle Su le vostre pagine Facebook Anche non positivamente Però parlarne Parlarne certo Perché io sono convinto Che siano dei prodotti Non perfetti Ma che hanno il loro pubblico Ecco su questo sono sicuro Anche perché Io sono un lettore di fumetti Cioè non Non è che sono il classico regista Che fa dei fumetti E non sa che cazzo sta facendo Cioè Abbiamo costruito un progetto Con gente che ama i fumetti E quello è stato Il fulcro di tutto No Ecco ovviamente Non è un aneddoto Però ti posso dire Che Ovviamente Nel mio campo Il cinema La televisione eccetera Di cento cose che scrivi Forse una va in produzione Eh sì Questo è tipico Sì sì Lo vediamo spesso Tutte le volte che scrivi Fai un grande sforzo Di immaginazione Mentre il bello dell'editoria Sia quando ho scritto Dei romanzi Che dei fumetti E tu sai che quella cosa Sarà pubblicata Quindi già Quando scrivi Sei preso bene Perché Però io ero preso benissimo A scrivere il fumetto di If Perché sostanzialmente Raga era il mio primo crossover Quindi io Da lettore 35ennale Cioè di fumetti Di roba eccetera Quando ho capito Che stavo giocando Che mi hai giocato No vabbè raga Adesso Quello lo faccio arrivare Lo faccio scontrare Con quello Ma aspetta Ma come mi invento La trama Che si incastra Quello è stato bello Perché Primo perché sapevo Che non è che Tutto questo sforzo Andava nel nulla E secondo perché È stato come giocare Quando ero bambino E per me Lavorare i fumetti Soprattutto la fondazione Immaginaria So che uno dice La solita cosa Accedi al tuo bambino interiore Ma invece A parte Dopo tre anni di analisi Ma vi posso dire Che invece Quella cosa è importantissima È importantissima Recuperare quella dimensione lì Di quando c'erano Meno schemi mentali Meno disillusione Per tutte le botte Che ti dà la vita Cioè il tuo potere Immaginifico Era molto più Puro E da quello Deriva anche più gioia No? E quindi il fatto Di tornare Anche solo per degli attimi A quella roba lì È molto rigenerante Che per me È quello che dovrebbe succedere Anche quando Lo leggi Un fumetto Certo Entri in un mondo immaginario È proprio una window Cioè la apri Entri in quella roba lì E ti diverte Magari lo sai Che è una cazzata Che stai leggendo Che ne so Savage Dragon Ma io mi diverto Sono dentro Savage Dragon Cazzate Cazzotti Robbe Cioè E secondo me Quella cosa È molto importante Sono d'accordo E ti dico Che è uscita È uscita tutta Tra l'altro parlando di crossover C'è anche un bello omaggio Di fatto Il crossover No? Ai crossover fatti bene A quelli fatti meno bene Si parla anche di questo In qualche modo In If E no Questa cosa traspare Te l'ho detto Cioè era veramente Ritornare un po' Quando a parte Quando a parte l'aneddoto Per parlare altre 100.000 ore Ma secondo me Abbiamo detto Tutto quello che dovevamo dire Adesso ricorderò ancora Tutte le cose Progetti futuri Che è un po' La domanda banale Ci hai detto Luca Probabilmente Punti a tirare fuori Questa cosa E poi vedremo Io poi sto andando avanti Con questa serie di fumetti Per Sergio Bonelli Che si chiama Mr. Evidence Ah certo È una serie di zinatori È appena uscito il quarto Che è metà Perché saranno otto volumi E poi sto lavorando A tutta una serie di cose Che purtroppo Non si possono annunciare Sì Immagino Diciamo che Cerco di sviluppare progetti Che siano interessanti Per l'Italia Quindi Sto lavorando A Un action Crime Sto lavorando A un horror Sto lavorando Questo non lo posso dire Però A un film Basato su Un famoso Personaggio Ok Di altri media Ok Però posso dire una cosa No posso dire una cosa Super nerd Che io Cioè posso dire poco Certo Ufficialmente Però posso dire Quello che si sa Ok Che io Allora aspetta Prima la dico E poi la spiego Ok Io ho lavorato Da super nerd Al film dei cavalieri dello zodiaco Quello in carne e ossa Infatti se uno guarda Tutti i titoli di code Alla fine ci sono Cioè Fabio Però diciamo che io sono Nei crediti perché All'inizio Nelle varie riunioni Tu c'eri C'eri Ok Io c'ero E esserci arrivato E esserci arrivato Per me da Da San Donato Milanese Anche solo essere in quella stanza E parlare di quel film Era una cosa Fuori di testa Veramente fuori di testa Poi Hanno fatto delle scelte E il film Si è discostato Molto Dalle idee Che stavamo portando Ok Quindi nel caso Se non vi è piaciuto Non date la colpa a Fabio Nel caso Ecco lui Però Però Fighissimo il fatto Di esserci Di esserci arrivato Come dici tu Cioè Quindi Bello Bello Comunque nei link Sotto la live Che troverete su Youtube O che state vedendo su Youtube In questo momento Nel caso ci state recuperando In post Metterò anche Comunque il profilo di Fabio Così potete anche seguirlo Per i vari annunci Le varie cose che sta Che sta facendo E che farà Grazie infinite Ringrazio tra l'altro Panini Comics Ovviamente Per Materiale fornito Ilaria Mencarelli Che è stata un po' La nostra Virgilio Ci ha uniti In qualche modo Quindi grazie anche a Ilaria E grazie ancora a Fabio Per la Per la chiacchierata E spero alla prossima Dai Troveremo occasioni Per riparlare Vedrai Vedrai Ciao ragazzi Ci vediamo nei fumetti Ciao a tutti Ciao ciao Ok Ciao Fabio Dovresti trovare un Click Per andare da qualche parte Poi ti scrivo sicuramente Grazie mille Per essere venuto Ci sarà un Un x Da qualche parte Forse per uscire Dalla finestra Ciao ciao Allora Intanto Ringrazio Subito Spero vi sia piaciuta La chiacchierata Ragazzi Adesso vi ricordo Anche Le cose Molto velocemente Ma lo faccio Perché mi sono piaciute Tanto Per adesso Di questo grande Progetto Di questo grande Progetto Potete trovare Quarantine Prophets Fumetto Mondo Dove A un certo punto Alcune persone Hanno cominciato A vedere Il futuro Quindi proprio Come gli x-men Come i poteri Degli x-men Improvvisamente È nata questa cosa E il governo Cosa fa Tutti quelli Che possono vedere Il futuro I cosiddetti profeti Li mette in un enorme carcere Per tentare di sfruttarli Ma loro non ci stanno E come vedete Tenteranno di evadere Bellissimo Prophets Poi Carisma Esorcismi Scienza e fede Lui Crede nella fede Prete Esorcista Lei Super Scienziata Che crede che invece Non esista niente di divino Dovranno collaborare Assieme a questo ragazzo Che invece di Possessione di demoni interiori Se ne intende Non diciamo di più Quindi Carisma E tra l'altro di Carisma C'è anche il romanzo Che invece È pubblicato Dalla corte editore Quindi Carisma Fumetto Panini Comics La corte editore Carisma Romanzo Che è un Diciamo Un ampliamento Ampliamento Del Del fumetto E che vi consiglio di leggere Assolutamente Poi c'è Carnivalia Una maschera Antica Che può Trasformare Te Nel tuo vero io E quindi se tu arrivi Travestito in un modo Perché dici Oggi Mi travesto da tigre Mi sento la tigre Diventerai una tigre Un gruppo di teenager Viene colpito Da questa maschera Quindi ognuno Prende poteri diversi A questa festa Dove tutti Sono in maschera E dove si creeranno Anche dei villain Ovviamente In questa In questa festa Ma la maschera Nasconde qualche segreto L'isola Nasconde un certo segreto Insomma Molto figa Molto Marvel Molto supereroistica E poi chiudiamo Con IF Fondazione Immaginaria Il fumetto Edito da Panini Comics Il romanzo Qui c'è anche il romanzo La corte editore Dove ci sono questi Ragazzini Della Della fondazione Immaginaria Che Devono tenere a bada L'immaginazione Perché Se tu pensi Troppo a una cosa Questa si manifesta E loro come i Men in Black In segreto Devono cancellare tutto Il romanzo È un prequel Quindi ci racconta Come Leo Il protagonista Di fatto È diventato Un membro di IF È bellissimo Devo ancora finirlo Ma posso assicurarvi Ve l'ho già detto Sono Credo Credo a metà giusta Tra l'altro Forse poco oltre È un prequel Appunto Ma il bello E I fumetti Che prendono vita Dentro IF Sono quelli Di cui vi ho raccontato Prima Quindi insomma Da qua Arrivano qua E questa cosa È bellissima Ci sono anche citazioni Ad altre cose C'è Lupin C'è Sherlock Holmes C'è la spada Di Gatsu C'è l'androide Di 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 avatar C'è il robot In cui il Marine A un certo punto Va in giro A sterminare Navi Insomma C'è veramente Di tutto Questa è una sorta Quasi di 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 mashup Pop Veramente Veramente bello Leggibile anche a se stante Ma se leggete tutto quello che vi abbiamo detto Godrete veramente il doppio Ovviamente sia di Carnivalia Che di Prophets Ci saranno anche due romanzi Che arriveranno con la corte editore E così alla fine avremo Quattro fumetti E quattro romanzi Che vanno a comporre quello che è l'imago verso Ecco vedete qua Questi sono i tre fumetti If E il quarto E poi ci saranno Quattro romanzi Spero sia veramente tutto chiaro Ma È comunque facile Panini Comics Fabio Guaglione E la corte editore Idem Per trovare I futuri quattro romanzi E i quattro fumetti Che già Già trovate Io ringrazio ancora Panini Comics Ilaria Mencarelli Che ci ha uniti Ovviamente Fabio Guaglione Che è stato divertentissimo Intervistare E che spero Possa portarci Tante altre gioie E a tutti voi Che ci avete seguiti E quindi mi raccomando Nei commenti Se ci state vedendo Indifferita Scatenatevi Fateci sapere la vostra Perché È bello parlare di queste cose È importante Parlare di queste cose E se ci state seguendo Su Youtube Venite a trovarmi Anche su Twitch Iscrivetevi al mio canale Perché Si fanno chiacchierate Spero interessanti Come questa Ciao Ciao